Agenda di Mer 8 giugno 1963 È stato ieri, credo, durante la notte, non la notte fra ieri e oggi, la notte fra l'altro Ieri e ieri, cioè il 6 giugno, per più di due ore, ininterrottamente, non c'era più nessuna coscienza di niente Non un pensiero, non una volontà, non un'azione, un'osservazione, niente Tutto fermo Anche le cose che succedono quando uno ha delle esperienze nel subconscio, per esempio, e fa un certo lavoro Tutto, ma tutto, tutto bloccato Era come un'azione di forza Senza pensieri, senza idee, nient'altro che la sensazione o una specie di percezione La parola giusta è awareness Di una forza Ma di una forza immane, capisci? Come la forza della terra Tutte le combinazioni di forze Con un'azione che veniva dall'alto e che ci lavorava dentro Mi passava attraverso Soprattutto intorno alla testa fino al petto Ma era in tutto il corpo una forza sferica Passava e via Via, via in una direzione, nell'altra, in un'altra ancora In una quantità innumerevole di direzioni Ma erano solo i movimenti di forza C'era anche come una percezione di colori Ma non quella comune Era una specie di conoscenza Che a una data vibrazione corrisponde un colore Era una massa Incalcolabile Quasi Comunque indefinita e simultanea Di per lì E ride Mi sono detta Ma che succede? Poi ho pensato No, non importa Lasciamo fare E continuava 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 Tre ore senza interruzione Non sapevo Non sapevo più niente Non conoscevo più niente Non capivo più niente C'era soltanto una forza in marcia E che forza! Una forza che veniva da oltre la terra E che agiva su tutte le forze della terra Su quelle grandi Su quelle piccole Su minimi punti precisi Su cose enormi E andava 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 Agendo Su un punto E su un altro E su tutti insieme E Dappertutto Immagino che se la mente Avesse partecipato All'esperienza Avrebbe rischiato Di impazzire O almeno così Mi sembrava Perché era tanto Enorme Perché E c'era sempre 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 Nel centro fisico Cioè Nella base corporea Qualcosa che viveva In uno stato d'estasi Cioè Nella base corporea Sì Molto interessante Perché questa estasi Un'estasi Che scintillava Come un diamante Stava lì Così dolce Così dolce Così tranquilla Come se stesse sempre lì Per ricordare al corpo Non ti spaventare Così E ride Non ti inquietare Non aver paura Va tutto bene Come se la potenza suprema Dicesse continuamente Non ti inquietare Non ti inquietare Abbandonati Abbandonati È durato più di tre ore E mi chiedevo In che stato sarò Quando mi alzerò Sarò Completamente Intontita Oppure no Tranquillissima Niente di cambiato Tranne una specie di Qualcosa che sorrideva E diceva E diceva Ah Allora Può anche Essere così E la mente Assolutamente Silenziosa Assolutamente Tutte le connessioni Con quello che arriva Con quello che arriva di continuo E da ogni parte Dagli altri Completamente Sparite Soltanto le forze Universali In azione Con qualcosa che veniva Dall'alto E che le diffondeva Impregnandole Completamente E insieme Un punto Proprio Un punto In quell'immensità Ma un punto Scintillante Assolutamente Statico E in una pace Un'estasi Straordinaria Che diceva Deliberatamente Non agitarti Lo vedi? È così Non ti agitare Non ti agitare Perché l'esperienza Superava tutte Le possibili proporzioni Individuali È la prima volta Ho avuto correntini Forza Ho avuto azioni Sulla terra Ho avuto Forze che venivano Un mucchio di cose Ma questo Era diverso Era Tutto insieme Era dappertutto Contemporaneamente Tutto insieme Con quell'influsso Ed era Certamente C'era qualcosa Che voleva farmi Rimanere Tranquilla E senza Agitazione Dovevo restare Molto Tranquilla E mi è sembrato Che volesse Rendermi Cosciente Di qualcosa Che stava Succedendo Perché la notte Di solito Mi distacco Da tutto E mi Universalizzo No Non è esatto Non è che mi Universalizzi Mi identifico Col Signore È il mio modo Di riposarmi Lo faccio Tutte le notti È il momento Del mio riposo Più profondo Ma qualcosa Mi ha reso Cosciente Del fatto Spesso Ci sono Esperienze Che vengono In questi ultimi Tempi Ce ne sono state Un bel po' Ma questa È La prima volta Perché Di certo Era qualcosa Che succedeva Per la Terra Ma non era una cosa Che veniva Dal centro Di forze Che agisce Di solito Sulla Terra Non era Il solito funzionamento Delle forze Sulla Terra Era una cosa Che accadeva E che faceva Sembrare La Terra Piccolissima Andava Verso la Terra E lo faceva Per la Terra Ma la Terra Era Piccolissima Piccolissima E non c'erano Percezioni Psicologiche Quelle che chiamo Percezioni Psicologiche Sono Per esempio Le vibrazioni D'amore La vibrazione Di pace La vibrazione Di luce Le vibrazioni Di conoscenza E di potere Non prendeva Quell'aspetto No Non era così Eppure Doveva esserci Anche questo aspetto Perché c'erano Tante cose Tante cose Che però Ne formavano Una sola Ma una cosa sola Che prendeva Tanti aspetti Diversi Però le forme Io Non le vedevo I colori Non li vedevo Era pura sensazione E basta Una pura sensazione Vibratoria Nient'altro Che Vibrazioni 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 A una scala Colossale È Un'esperienza Nuova Ovviamente C'era Doveva esserci Motivo Di inquietarsi Perché Appena sono diventata Cosciente Dell'esperienza L'esperienza È cominciata Prima Che ne diventassi Cosciente Quando ne ho preso Coscienza Mi è sembrato Che durasse Già da un pezzo Perciò Io dico Tre ore Sono le tre ore In cui Ne sono stata Cosciente Ma l'esperienza È cominciata Molto prima Erano le undici Di sera Ed è andata Avanti Fino alle tre Del mattino Perciò Appena Mi è stata data La coscienza Del fatto Ovviamente C'era motivo Di inquietarsi Perché subito Mi è stato detto Vedi È così Che succede Ed era solo L'estasi In cui si trovava Il corpo A impedire L'inquietudine Oh va bene Va tutto bene E quando L'esperienza È finita Non si è conclusa Come quelle esperienze Che si esauriscono Si è conclusa Molto lentamente Come Se venisse Non proprio Velata Alla mia coscienza Ma come Se la coscienza Ne venisse distratta Con questa sensazione Non inquietarti Sia all'inizio Che alla fine Cioè Nonostante Quando mi sono svegliata Mi sono detta La testa Aveva una strana Impressione Con Di un enorme Gonfiore Un gonfiore Smisurato Allora mi sono detta Magari domattina Quando mi alzo Mi alzo alle quattro e mezza Sarò Completamente a terra Ecco perché Mi sono messa a osservare Ma tutto andava bene C'era soltanto Quella sensazione Di gonfiore Che è rimasta Mi sembra però Eppure è stato due giorni fa Non la notte scorsa Di avere ancora la testa gonfia La lucidità però È rimasta Tale e quale Ride Niente di Spostato Anzi c'è una specie di Come d'acutezza Qualcosa di più Acuto Nella percezione Con una leggera Presa in giro Non so perché L'impressione Ancora più esagerata Che al mondo Per tutto Si fa Troppo rumore Per nulla È una sensazione Che ho da Potrei dire Da secoli Ma con in più Qualcosa di acuto E Ironico Ma se no Tutto chiarissimo Se ci fosse qualcuno Che potesse dirmi Ma Non devo sapere È evidente Magari Chiacchiero troppo Ti racconto sempre Tutte le mie Storie E magari Non è necessario E perciò Non mi viene detto Niente Ma alla gente Piace tanto Etichettare tutto No? È questo È quello È quell'altro No? Non vogliamo niente Del genere Sai come Quei titoli Nei giornali Che sanno fare Tanto bene Mer disegna Grandi titoli Di prima pagina Ultimi sviluppi Degli avvenimenti No Proprio Non lo vogliamo Le esperienze Vengono A volte Per un'ora Due ore Stavolta Invece L'impressione Che all'improvviso Avrei saputo E che Partecipavo Al corpo Veniva consentito Di partecipare Perché Per una ragione Che non so Forse per il lavoro Che si sta facendo Nel corpo Non so Magari è per questo Forse era Necessario Farmi partecipare Ma l'impressione Di una cosa Enorme Che sta Succedendo Capisci Quando L'anno scorso Ad aprile Ho avuto L'esperienza Di quelle Pulsazioni D'amore Avevo La percezione Del colore La percezione Psicologica Dello stato In cui stavo Come spiegarlo Per esempio La qualità Delle vibrazioni D'amore Una cosa Che non ha niente A che fare Assolutamente Con alcunché Di terrestre In quel momento Io ero L'esperienza Ero Quelle Vibrazioni Ma di quelle Vibrazioni Conoscevo Tutte le qualità È durato Dei mesi Beh Niente del genere Era soltanto Un'azione Soltanto Un'azione E un'azione Per giunta In cui Il corpo Umano È come È meno Di una formica Molto meno Di una formica Un punto Impercettibile E nello stesso Tempo Era come se Non ci fosse Nient'altro Che questo Corpo Come se Esistesse solo Questo corpo E fosse Lui A fare Tutto E questo Corpo Era Il corpo Eppure Quel punto Quel punto Così confortante Ed estasi Era Piccolissimo Piccolissimo Ma stava lì Molto insistente Molto cosciente A dirmi Non intervenire Lasciarsi andare Va tutto bene Lo vedi Va tutto bene Piccolissimo Eppure era Il mio corpo Ho la testa Che mi sembra Ancora gonfia Strano E Saprem Dice Ma Sono forze Nuove O O cose Che succedono Comunemente È un nuovo Lavoro Sulla terra O hai visto Una cosa Che succede Normalmente Ma di cui Non avevi preso Coscienza Prima E lei dice Me lo sono Chiesto È qualcosa Di eterno Di eterno Che a causa Di quello Che è Successo In quel momento È diventato Qualcosa Di nuovo Così A causa Di quanto È successo Allora Potremmo dire Che è una cosa Che si è Manifestata Per la prima Volta Ma L'impressione Era quella Di Un'eternità Eternità Fuori Del tempo Non una cosa Che dura All'infinito Una cosa Eterna E il modo giusto Di dirlo Sarebbe Sì Che si Manifesta Che si rende Percepibile O che Entra In attività Ma non è così Perché Sì Che agisce Che diventa Percepibile Perché Agisce L'impressione L'impressione Era questa Potremmo dire Anche Qualcosa Di Universale Che diventa Individuale Non Individuale Nel senso Di una piccola Persona Ma Cosciente Di sé Ma il fatto Notevole È che Il tutto Non aveva Niente a che fare Con qualsiasi Attività Intellettuale Dalla più alta Alla più bassa Niente 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 a che fare Con la conoscenza L'osservazione Il discernimento La percezione Intellettuale La comprensione Il giudizio Niente 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 Era Una Forza In movimento Forza Non è niente Forza È qualcosa Di molto Piccolo È Sembra Una cosa Immensa E non Aveva niente a che fare Con la conoscenza Né con la luce Né con la comprensione Tutto L'aspetto Luce Conoscenza Dell'intelletto Niente a che fare Con l'amore Che avevo sentito Quell'altra volta E che ha La sua vibrazione Particolare La miglior definizione Che possiamo darle È che era Il potere Il potere Nel suo aspetto Più imponente Schiacciante E con una In confronto Né sentire Né sentire Né sentire Ed era chiarissimo Che quella Sollecitudine La sollecitudine Suprema Si preoccupava Di prevenirmi Di prevenirmi Con quell'indicazione Va tutto Bene Ma ovviamente Se no Mi sarebbe sembrato Che tutto Tutto Stava per Dissolversi Allora Allora Se usassimo Il nostro piccolo Comprendonio Potremmo dire Magari Che si tratta Non so Del potere Sopramentale Che si è manifestato Silenzio Ma non c'era Nessuna Percezione Di luce Nessun Aspetto Che potesse Servire Da indicazione Nessuna Percezione Di sentimenti D'amore Che potesse Servire Da Indicazione Niente Del genere Niente Soltanto Una cosa Che lascia A bocca Aperta Tanto enorme Da essere Indescrivibile Indescrivibile Evidentemente È Il potere Noi concepiamo Sempre il potere Come una cosa Che agisce Su Altre cose Su un oggetto Che ha un obiettivo Che serve A realizzare Qualcosa Non sappiamo Dissociare I due Aspetti Non era Niente Di simile Era Il potere In azione Ma non Un'azione Su qualcosa Ho l'impressione Di una Tappa Decisiva Che Oltrepassa Di gran Lunga La mia Piccola Comprensione Silenzio Un giorno Sapremo Ma la Spiegazione Viene dopo Tutto si riduce Alle nostre dimensioni Ride Per farci Piacere Marci Crescia Piacere Orpore Sperget Crescia Per a Sperget